Bentornati e buona giornata da Meteo One. Come possiamo vedere dall'immagine satellitare, l'alta pressione ha parzialmente conquistato l'Europa occidentale e il nord Italia, mentre al sud avremo solo qualche disturbo pomeridiano durante il weekend nelle zone interne. A partire da lunedì invece l'alta pressione continuerà a conquistare i settori nord-occidentali dell'Europa, ma allo stesso tempo un fronte perturbato dal nord Europa, come vediamo dall'immagine satellitare, interesserà tutta l'Italia scavando un'insidiosa bassa pressione nel terreno. Quindi attendiamoci un deciso peggioramento delle condizioni meteo con carattere marcatamente autunnale. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre regioni per domenica 4 settembre. Il tempo si presenterà prevalentemente soleggiato o velato al mattino su tutti i settori pugliesi e lucani. Dal pomeriggio possibilità di rovescio temporale isolati solo sul basso potentino. Sugli altri settori il cielo continuerà ad essere sereno o poco nuvoloso. Dalla grafica notiamo che le temperature saranno in leggero aumento di 1 a 2 gradi sia nelle massime che nelle minime. I venti risulteranno deboli dai quadranti settentrionali, i mari da poco mossi a mossi. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo infatti il nostro telespettatore Luigi Marzo per questo stupendo tramonto sul porto selvaggio nei pressi di Nardò, Lecce. Se volete inviarci la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.